buongiorno buongiorno a tutti carissimi e bentornati in questo spazio di riflessione e condivisione un pezzo che non apro così ma benissimo bentornati nella nostra rubrica cinque minuti oltre le nuvole che per questi giorni particolari la spostiamo dal sabato al venerdì perché perché siamo entrati nel tridum cioè nel triduo pasquale che significa i tre giorni prima di pasqua e il sabato è dedicato al silenzio la commemorazione della deposizione del corpo di cristo nel sepolcro la morte quindi ma una morte colma di vita di speranza di certezza mi viene da dire la speranza la speranza parola bruttina negli ultimi anni la certezza della nuova vita e questa è anche la primavera un momento in cui iniziano a rifiorire tutte le cose dopo un lungo periodo di silenzio di morte è una certezza non è una speranza quindi il sabato è dedicato al silenzio e magari sempre più persone riuscissero a fare questo silenzio necessario per generare il silenzio è fecondo è la capacità è la possibilità di essere ingravidati da qualcosa di nuovo e di generare senza silenzio c'è il perpetrarsi ripetersi di ciò che è già noto del vecchio il vecchio è sempre fatto di attaccamenti fissazioni steccati barriere paure bisogna morire bisogna morire bisogna morire a tutto ciò per poter passare oltre pesa pasqua passare oltre e non passi oltre se non muori perché diciamo che non si può passare attraverso questa porta rimanendo integri con la struttura che è ego che è cristallizzata egocentrica tutto deve girare intorno all'idea io sono questo corpo e ho bisogno degli altri funzionali a me bisogna passare oltre questa cosa bisogna morire bisogna essere crocifissi tutto ciò ci spiega ci insegna ci dice il vangelo i vangeli apocrifi sinottici dritti e rovesci letti e non letti potete anche non leggerli l'importante è che si realizzi questa cosa quella morte che ci porta ad una resurrezione nella libertà nella vita fuori dal tempo dalla sofferenza al continuo morire che ci porta in quell'amore che indica gesù adesso lo vedremo un amore incondizionato fatto di libertà fatto di cura in senza motivazioni seconde mi prendo cura di te mi prendo cura di te per portarti in questo stato di libertà non mi prendo cura di te per poi avere qualcosa la cosa più grande che posso avere è vedere che anche tu sei entrato in questo spazio che è il tuo essere che è il nostro essere l'unità tra il figlio e il padre ce lo continuo a ripetere nei vangeli tutto ciò può accadere leggendolo dritto rovescio storto leggendo o non leggendolo questo deve accadere però perché che è una trasformazione del cuore invece molte persone trasformano il testo in una gabbia concettuale sono più interessate a rivendicare la verità del testo c'è una cosa incredibile anziché trasformarsi e divenire cristo cristos l'unto del signore colui che è unito che è inebriato profumato dal signore cristos l'unto del signore in greco quando il messaggio cristiano il messaggio di gesù è arrivato in grecia ecco gesù è stato definito cristos l'unto del signore mesha traduzione dell'aramaico antico l'unto del signore ecco dovremmo divenire realizzare questo che è un risveglio una risurrezione e non trasformare il testo in una gabbia in un strumento di guerra contro altri testi quindi questa è una porta esistono altre porte importante entrare nella stanza dove c'è la vita amore la libertà la possibilità di essere in pace perché non c'è più il nostro ego il nostro ego centrico è il dramma brevissima sigla ho già detto molte cose poi venne a dire alcune attraverso una soggettivissima lettura di dei passaggi più belli prima che gesù venga preso e portato di fronte a ponzio pilato questo ometto che tentò in ogni modo di salvarlo ma niente non ci fu nulla da fare sigla bene fanciulle fanciulli lanciamoci nel tridum spiegando un po cos'è i tre giorni prima di pasqua inizia con i vespri del giovedì cioè i canti del giovedì al tramonto al vespro e giovedì si ricorda l'ultima cena noi leggeremo alcuni passaggi dell'ultima cena e il tradimento di giuda iscariota e non da non confondere con giuda taddeo giuda taddeo è oltretutto una figura meravigliosa come archetipo come simballo cioè è il santo protettore credo di questo mondo oggi ne abbiamo bisogno di tanti però è stato protettore delle cause disperate irrisolvibili cause perse ecco vedendo un po' come va ecco giuda taddeo non c'entra con giuda iscariota giuda iscariota è il discepolo di gesù che vende il suo maestro probabilmente nella speranza in realtà di innescare una rivoluzione un nuovo regno liberarsi di erode liberarsi dell'impero romano aveva frainteso vedeva ancora questa rivoluzione là fuori anziché prima profonda all'interno d'amore il venerdì invece c'è la commemorazione della crocifissione di gesù il momento in cui viene ucciso il momento in cui viene sacrificato e è il momento in cui è esplicita totalmente ma lo vedremo in un passaggio adesso il suo amore per i suoi fratelli poi abbiamo il sabato e per questo abbiamo spostato il venerdì il sabato nel momento del silenzio della morte una morte che è vita perché certezza di nuova vita però per entrare in quella nuova vita bisogna morire bisogna fare silenzio il silenzio è generativo il silenzio permette alle parole di nascere da una condizione di quiete di profondità e quindi il giovedì è la commemorazione della sepoltura del corpo di cristo ed è silenzio e poi c'è la domenica pesac questo rinascere passare oltre le ombre il mondo della morte dell'oscurità dell'ignoranza della paura quindi i tre giorni prima di pasqua vengono definiti tridum il triduo noi ci concentriamo su alcuni passaggi del giovedì siamo ancora a giovedì tra il giovedì e il venerdì bene allora partiamo con giovanni 13 l'ora di gesù che ci dice giovanni dice prima della festa di pasqua sapendo gesù che era venuta la sua ora per passare da questo mondo al padre avendo amato i suoi che erano nel mondo li amò fino alla fine ora già qua potrebbe fermarci un'oretta ma non l'abbiamo probabilmente prima della festa di pasqua ovviamente sta parlando della pasqua ebrea del tempo doveva ancora morire essere crocifisso risorgere quindi doveva ancora innestarsi la pasqua come oggi la intendiamo a parte che ha subito varie modificazioni ma l'essenza di oggi diciamo doveva ancora innestarsi doveva ancora accadere la sua morte quindi prima della festa di pasqua del tempo ovviamente per capirci sapendo gesù che era venuta la sua ora sapeva lo sentiva lo percepiva anche qui non è che avesse la mappetta di tutto ciò che accadeva secondo me ma quando sei un uomo di consapevolezza unito alla coscienza profonda la coscienza del padre dell'origine le cose inizia a vederle un po più lunghe ad esempio non so se vi rendete conto c'è gente che non sta vedendo che siamo dentro un tempo di guerra non vede neanche quello cioè sino a quando una bomba non gli arriva in casa no e forse neanche lì ecco più apri un po gli occhi divieni consapevole più vedi le dinamiche di come si stanno muovendo meccanicamente le persone pertanto è molto prevedibile quel che accade probabilmente giude iscariota era molto prevedibile la sua animosità la sua idea politica lui era nel mondo del mondo e gesù dentro fra i suoi discepoli è sempre così c'è sempre un punto che è contatto con l'altro mondo c'è chi è più vicino e chi è più lontano altrimenti se avesse fatto un mondo stagno con i suoi discepoli tutti belli illuminati ebbene non ci sarebbe stato contatto la circolarità tra il mondo della coscienza del padre il mondo che lui ha vinto il mondo delle illusioni quindi sa che sta per arrivare la sua ora per questa consapevolezza per questa connessione profonda alla vita e i fatti che accadono e sveglio non ha paura la paura ti obnubila non riesce a vedere e qua dice una cosa bellissima era venuta la sua ora per passare da questo mondo al padre lui non è che non fosse unito al padre però la parte fisica manifesta e chiaramente era ancora nella dimensione diciamo in questo mondo che è intermedio in questo mondo è una sorta di porta in un certo senso ci permette l'esperire della consapevolezza della crescita della maturazione e grazie all'esperire dell'oscurità quindi è una sorta di mondo mediano sembra una specie di purgatorio allora gesù era in questo mondo connesso in profondità al padre totalmente nel mondo della coscienza del padre e stava andando però ad abbandonare definitivamente questo spazio di confine questo caravan serraglio che è quello dove siamo noi adesso e avendo amato i suoi che erano nel mondo li amò fino alla fine qua sta dicendo i suoi li ha trovati persi addormentati in quel mondo avendo amato i suoi che erano là totalmente nel mondo li amò sino alla fine gli mostra la via della resurrezione totale del regno di quella dimensione della coscienza che è totalmente libera dalle modificazioni e dall'oscurità e dalle ombre delle paure del mondo li ha amati sino alla fine dopo lo dirà vediamo se riusciamo ad arrivarci dirà quale amore è più grande di dare la tua vita per i tuoi fratelli per le persone che ami quindi morire a noi stessi fa sparire quell'ego che in realtà utilizza tutti gli altri per noi lui dice no l'amore qual è l'amore più grande se non quello di aver abbandonato completamente te stesso ed esserci per gli altri però vi devo dire anche che gli altri devono volerla questa cosa perché molti non vogliono che tu ci sia per loro per fare questo percorso di trasformazione di liberazione non vogliono la libertà essere liberi vogliono che tu sia un loro servo schiavo o che tu risponda alle loro necessità egoiche gesù non risponde mai alle necessità egoistiche egocentriche degli individui è importante capire questa cosa perché alcuni dicono i vangeli sono un messaggio di servizio di umiltà anche la chiesa in certi momenti periodi o certe letture è utilizzato ha deformato il messaggio portando le persone ad essere sostanzialmente sfruttabili la pecora il pastore trasformarle in pecore stupide qua vedremo gesù parla del servo della pecora usa questi messaggi ma spiega sempre che è una fase di trasformazione la pecora al buon pastore che la vuole trasformare sostanzialmente in pastore a sua volta il servo è uguale al padrone ma deve fare un percorso ma questo servo ha un padrone che è padre che è l'amore se io rovescio male questo messaggio ecco l'inganno il diaballo la divisione la fregatura io rovescio tutto ciò e trasformo il messaggio in io ho il potere di nuovo io ho il potere tu fidati di me vecchio andrà tutto bene allora durante la cena quando il diavolo aveva già posto in animo a giuda di simone iscariota di tradirlo sapendo che il padre aveva messo tutto nelle sue mani che da dio era uscito e a dio ritornava vi ricordate quei due termini saguna nirguna manifesto in manifesto qui dice da dio era uscito emerso nella forma fisica e da dio ritornava quindi sapendo essendo pienamente consapevole di questa unità profonda va verso questa morte la prova con amore con una certa serenità non possiamo dire felicità perché i vangeli dopo ci raccontano che anche sulla croce chiede a dio di togliergli quel calice di dolore di sofferenza dio non risponde gli dice no no guarda che te lo bevi tutto e lascia che sia fatta la sua volontà cioè si affida però ecco non possiamo parlare di vedete stiamo parlando di una figura del maestro il maestro dei maestri almeno nel mondo occidentale diciamo non possiamo dire che va verso la prova drammatica felice ma va forte con una pace dentro di lui perché sa di essere l'oceano e non l'onda che ora c'è soffrirà e svanirà è l'onda ma è l'oceano è il figlio ma è il padre questo secondo me sta dicendo in questo passaggio dove dice il padre aveva messo tutto nelle sue mani da dio era uscito e a dio ritornava si alzò da tavola depose il mantello e prese un panno e se ne cinse prende un panno lo gira intorno alla vita e fa una cosa strana per il nostro ego poi oggi figuratevi oggi ci sono persone che non danno neanche non so gli chiedi di spingere il carrello al supermercato perché una vecchietta male glielo danno in testa quindi fa una cosa strana il maestro il figlio di dio per i suoi discepoli era il figlio di dio cioè non so se c'è figlio di dio giuda lo pensava quella potenza capace di rovesciare l'impero romano il figlio di dio secondo me giuda lì è andato fuori di testa giuda iscariota quando vede cosa fa va fuori di testa perché cosa fa il maestro il rivoluzionario che alcuni volevano versa dell'acqua nel catino e incomincia a lavare i piedi dei discepoli ad asciugarli con il panno del quale si era cinto capite il passaggio che in potenza che a sé fatto con amore perché di recente ho visto qualcuno che ha fatto delle sceneggiate abominevoli copiando lasciamo stare ma nella realtà del momento sapendo che stai andando a morire e non a fare una sceneggiata a morire e vuoi lasciare un ultimo messaggio e ti mostri figlio di dio figlio del regno dei cieli così chi lo immaginava potente chi è dentro l'ego e vuole l'uomo potente beh io credo che l'avrebbe ucciso lì sul posto è umiliante ma cosa stai facendo lavi i piedi e sì perché non è dentro questa logica di questo mondo è in una dimensione di totale non divisione unità e lo dice lo dice tremendamente signore tu mi lavi i piedi dice simone che simone non è dentro quell'ego non ne rimane come disgustato ma ne si sente quasi imbarazzatissimo per quanto ama gesù per quanto pensa di non meritare una cosa del genere gesù gli risponde ciò che io ti faccio tu ora non lo sai come il padre quando fa qualcosa al bambino fa fare qualcosa al bambino non può fargliela capire perché non è pronto deve farla quella cosa e questa è la dimensione la differenza tra l'iper razionalità che tutto vuole spiegare a parole e l'azione se una persona ci ama a volte vede più di noi fa delle cose che noi non capiamo ci possono anche ferire a volte ma la sentiamo che quell'azione viene fatta con un'intenzione anche l'adolescente il preadolescente se l'azione che stiamo facendo è veramente consapevole fatta con amore può anche farli star male ma loro percepiscono che è un dolore che devono passare ma sorretto dall'amore se invece c'è l'ego fetente l'inganno noi magari facciamo anche delle cose piacevoli per loro anzi continuiamo a farle piacevoli ma loro sentono che c'è il vuoto sotto e quindi c'è il vizio ecco che si dice quel bambino è stato viziato così prende una doppia fregatura lo dico spesso prima ha avuto cose irrilevanti ha sofferto e sente che non c'è l'amore sotto e poi inizia a essere anche giudicato perché diviene capriccioso diviene aggressivo perché non ha avuto l'amore l'amore invece ogni tanto fa anche cose dure ma il cuore ragazzino da cuore a cuore lo sa lo sente e quindi le accetta e attraversa la prova attraversa le correnti del fiume allora gesù qua meraviglioso gli dice guarda tu adesso non capisci ma lascia stare faccio stai buono lo capirai in seguito pietro gli risponde non mi laverai i piedi no mai gli rispose gesù se io non ti lavo non avrai parte con me queste frasine non è che sono nei vangeli quasi niente buttato lì se io non ti lavo non avrai parte con me metaforicamente attraverso un'azione si sta inchinando di fronte a loro quindi si fa mamma si fa padre si prende cura non ha una dimensione egoica capite quando parla del padrone del servo non è la logica egoica nostra quando parla del pastore della pecora non è la nostra logica e dice se io non ti lavo se non sei pulito se non profumi se non togli l'impurità non avrai parte con me con me e quindi col padre con la coscienza nostra d'origine di tutti non ci entri gli disse simon pietro signore non solo i piedi allora lavami tutto le mani il cap ci faccio la doccia intera gesù soggiunse chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è integralmente puro cioè cosa sta facendo il discorso su come lavarsi la doccia no simon pietro dice allora lavami tutto mi devo lavare tutto lui dice no devi lavare quella parte i piedi i piedi metaforicamente la parte che ha contatto sempre con il fango la polvere le strade il deserto il tempo giravano con i sandali non avevano come oggi le scarpe calzini gli anfibi eccetera allora dice se hai già fatto un percorso vai fino in fondo e lava quello che c'è da lavare è inutile che continui non è che ti devi rilavare lava le impurità e poi dice voi siete puri ma non tutti sapeva infatti chi stava per tradirlo per questo disse non tutti siete puri poi andiamo avanti or quando ebbe lavato loro i piedi riprese il suo mantello si mise a sedere disse loro capite che cosa vi ho fatto voi mi chiamate maestro il signore dite bene perché io lo sono se dunque io signore maestro vi ho lavato i piedi anche voi dovete lavare i piedi gli uni degli altri infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come ho fatto io a voi in verità in verità vi dico il servo non è più grande del suo padrone capite il servo non è più grande del suo padrone vi sto servendo il servo non è più grande del suo padrone mi verrebbe da dire il padrone non è più grande del suo servo nell'apostolo è più grande di colui che l'ha mandato se capite queste cose siete beati se capite queste cose siete beati se le mettete in pratica anche qua è un passaggino potentissimo ok l'hai capita la stai facendo perché non vi dico quante volte magari anche in semplici passaggi non l'anima e la resurrezione semplici passaggi di consulenza filosofica di cose da fare nelle relazioni per cambiare magari una relazione che sta andando male una relazione che sta finendo la persona dice ho capito ho capito sì ho capito cosa dice qua se capite queste cose siete beati se le mettete in pratica perché il capire se non ha una dimensione di realizzazione pratica mi chiedo che cosa avete capito quando uno ha capito ma poi non fa niente vuol dire che non ha capito niente oppure ti è stata data una nozione astratta vuota nulla nulla parole 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 fin d'ora ve lo dico prima che accada affinché quando accadrà crediate che io sono dice nell'ultimo passaggio vedete che usa di nuovo che io sono usa il presente l'ho detto mille volte è il presente senza tempo al di là del tempo quindi non è il presente nostro relato al passato al futuro usa diverse volte io sono che è il tempo dell'essere del padre è il non tempo prima che abramo fosse io sono il tempo è il tempo è della dimensione fenomenica delle cose che nascono si mantengono si dissolvono l'oceano l'oceano è a temporale le onde hanno un tempo di salita e di discesa sono è un unico fenomeno anche l'idea del non tempo senza il tempo non l'avremmo è la parte manifesta in manifesta appunto ok andiamo al secondo punto ne ho un paio ancora e sarebbe lunga la questione a un certo punto dice siamo in giovanni 33 figlioletti capite quando usa il padre se io sono veramente rammaricato perché ce l'hanno insegnato male il padre padrone poi è arrivato il maschilismo il femminismo c'è una dimensione d'affetto d'amore per non parlare poi della presenza delle donne nei vangeli e quale valore hanno inestimabile e se poi le cose non vengono passate bene viene fuori un qualcosa di mostruoso qua dice figlioletti ancora un poco sarò con voi figlioletti hanno la sua stessa età c'è gente che è più vecchia è l'amore mi cercherete e come ho detto i giudei dove io vado voi non potete venire così lo dico ora anche a voi un comandamento nuovo vi do che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi anche voi amatevi gli uni gli altri da questo riconosceranno tutti che siete miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri non se baciate il libro i banchi come si dice la mia parte si un basa banchi c'è uno che vai in chiesa ma non ha realizzato se vi amate gli uni gli altri sarete miei discepoli perché siete uniti a quella realtà d'amore non se fate una sorta di totem del mio nome del testo in antagonismo all'altro leggilo storto leggilo dritto non leggerlo realizza quell'amore e sarai discepolo di cristo vuoi dire cristo vuoi dire gesù che cristo cristos del greco neanche sapeva gesù cosa fosse cristo capite le parole e ora dice piegati aiuta a pulire le cose sporche i condizionamenti i limiti renditi servo del tuo discepolo in un certo senso il padrone è un servo il servo è un padrone poi c'è un altro bel passaggio tommaso dice signore non sappiamo dove vai come possiamo conoscere la via qua gesù secondo me un po si stava irritando che e poi era anche uomo di passione di cuore gli dice gesù io sono la via e la verità e la vita tommaso che non ci mette il naso ma non capiva tanto perché troppo razionale logico e era ancora più nella dimensione diciamo del mondo signore non sappiamo dove vai come possiamo conoscere la via la te è nella testa ce l'ha di fronte la via che è la realizzazione che lui è lui è di fronte a ponzio pilato dopo verrà portato da ponzio pilato dopo che giuda avrà dato i denari arriveranno lo prenderanno lo porteranno da pilato il governatore della zona romano della zona della giudea pilato che un po' era infatuato sentiva più pilato la sua presenza la particolarità di questo uomo che tommaso in sta domanda pilato gli dice ok ma stai parlando di sta verità qual è la verità i vangeli gesù non risponde dobbiamo immaginarceli perché sono percorsi reali esperienziali più che scritti gesù era di fronte a lui in silenzio probabilmente gli avrebbe potuto dire io sono la via e la verità e la vita ma a tommaso gliel'ha dovuto addirittura dire perché è proprio decoccio a pilato l'avrà fissato negli occhi ed è rimasto in quel silenzio e forse pilato l'ha percepito quindi esce ci prova di nuovo io non trovo nulla nessuna colpa in quest'uomo perché devo 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 mandarlo a morte e sotto niente sotto ci sono i veri obnubilati quindi vedete erano quelli più sacri secondo il popolo erano i dotti del sinedrio ed erano i più ciechi pilato un governatore romano nulla sapeva di tutta la teologia e la religiosità di quello spazio di quel luogo e forse per questo percepiva di più allora tommaso niente gli dice come possiamo conoscere gesù mi immagino io io sono la via e la verità e la vita nessuno va al padre se non attraverso di me se voi mi aveste conosciuto anche il mio padre conoscereste e fin d'ora voi lo conoscete e l'avete visto e fin d'ora voi lo conoscete io sono sono qui assorbi questo stato dell'essere che è dentro di te assorbilo invece quello sta pensando dove devo andare che cosa devo fare capite dalla testa al cuore quello sta nella testa infatti si dice fuori di testa io è la sorgente della forma fisica io è il cuore io sono non dici io sono ma dici tu sei fuori di testa tommaso nella testa gesù è nel cuore nella sorgente gli dice filippo mostraci il padre e ci basta filippo va menato cioè questo filippo va menato mostraci il padre ci basta cosa stai dicendo filippo ma cosa stai dicendo gli dice gesù da tanto tempo sono con voi e non mi hai conosciuto filippo chi ha visto me ha visto il padre come puoi tu dire mostraci il padre allora lì dice non credi che io sono nel padre il padre in me le parole che io vi dico non le dico da me stesso non è il mio ego che parla il padre che dimora in me fa le sue opere allora anche qua secondo me vedete non è che dice credimi zitto è un dogma sto dicendo ma non mi credi è un po' come dire ma non fatemi di brutte parole ma non l'hai visto ma non mi hai sentito non hai sentito la quiete la capacità ad esempio di fronte all'adultera tutti volevano massacrarla vi rendete conto la situazione rimanere quieti così calmi e spegnere una situazione del genere e dice vai io in te non trovo alcun peccato e la libera la libera da tutta questa situazione di follia la pace che portava la trasformazione lui dice ma non l'hai sentita non credi che c'è un'unità evidentemente no sono persi nel mondo nella testa ancora non sono pronti gliel'ha detto prima le parole che vi dico non le dico da me stesso il padre che dimora in me fa le sue opere credetemi io sono nel padre il padre in me glielo deve ripetere cento volte perché gli prova da dire fidatevi ascoltate fate silenzio divenite recettivi questo dice quando continua a dire credetemi è un invito a far silenzio non è un invito a trasformare il testo in un dogma e non trasformarti in verità in verità vi dico chi crede in me anche egli farà le opere che io faccio ne farà anche di più grandi perché io vado al padre lui resta ne farà di più grandi questo passaggio un altro importantissimo che ci sta dicendo che non voleva dei discepoli pecore come è stato inteso poi degli sfigati dice farete cose più grandi di me è una cosa più grande non è camminare sulle acque del lago tiberiade fisicamente ma ad esempio riuscire a portare quell'amore la pace ci sarà qualcuno che magari farà cose più grandi di me dice no perché i bambini quando sono un po stupidini il papà se ne va e muore no il mio papà è il più grande di tutti voi non potete essere meglio di lui ma non sei cresciuto devi divenire anche tu a tua volta papà se invece vuoi rimanere sempre bambino piccolo adolescente viene fuori un guaio cosa voleva tuo padre se non che tu divenissi padre perché rimani sempre lì bambino e quanto chiederete nel mio nome lo farò affinché il padre sia glorificato nel figlio se mi chiederete qualcosa nel mio nome io lo farò anche qua non vuol dire se chiedete qualcosa in nome mio voglio il maserati l'ho chiesto in nome di gesù allora il padre citofona alla casa delle macchine diceva il pago io il mutuo il tag tan le rate sta dicendo se chiedete qualcosa in nome mio vuol dire se chiedete qualcosa dentro questo sentiero questa realtà questa dimensione se la chiedete sarà realizzata perché siamo uniti in quella dimensione se chiedete qualcosa dentro la legge del padre possiamo dire che è amore tutto ciò che crea che chiedi in quella dimensione sarà realizzato quello è in nome mio non a nome mio chiedi che ne so che vengono pagati i debiti tuoi le rate le tasse il mutuo eh se no sarebbe un po troppo comica la cosa e va bene e chiudiamo chiudiamo l'ultimissimo è bellissimo questo passaggio l'immanenza nell'amore di gesù viene chiamato qui giovanni 15 9 come il padre ha amato me così io ho amato voi rimanete nel mio amore non lo ridice di nuovo è tutto un continuo rimanete in quell'amore scioglietevi in quell'amore se osservate i miei comandamenti qui non vedete molte volte è stata riportata questa cosa come gli ordini che vengono imposti c'è qualcosa che viene calato dall'altro invece il comandamento se osservate i miei comandamenti rimarrete nel mio amore non va inteso come una legge esterna che ti viene imposta ma un potente suggerimento che ti riguarda è un potente suggerimento se io ti spiego una cosa che è una legge che ne so ad esempio facciamo come dire non mettere la mano sul fuoco io te lo comando te lo raccomando comando dopo la vuoi mettere mettila la mano sul fuoco no io non ti sto imponendo una legge esterna che svincolata dal tuo bene dal tuo benessere sto dicendo qualcosa che è per te in te così era inteso a mio avviso il comandamento infatti dopo lo dice dice qual è il comandamento pensate che comandamento che dà che che durezza che che maschilismo patriarcato se osservate i miei comandamenti rimarrete nel mio amore come io ho osservato i comandamenti del padre mio e rimango nel suo amore questo vi ho detto affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia giunga alla pienezza questo è il mio comandamento sentiamo cosa dirà che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi quindi ripete la cosa che ha già detto prima è il mio unico comandamento questo è il mio comandamento e poi dice nessuno ha un amore più grande di questo dare la vita per i suoi amici voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando la capita la circolarità di questo discorso espressa con i termini duemila anni fa voi siete amici miei siamo amici ma in realtà tutti noi siamo amici se siamo in sintonia di intenti di visione se c'è una totale divergenza io vi posso anche amare ma non riusciamo a camminare assieme non riusciamo a realizzare la stessa cosa giusto e allora sta dicendo se seguite questi comandamenti questa consapevolezza io dico questa ovvietà non vi chiamo più servi perché il servo non sa ciò che fa il padrone vi ho chiamati amici perché tutto quel che ho udito dal padre mio ve l'ho fatto conoscere non voi avete eletto me ma io ho eletto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga affinché qualsiasi cosa che chiediate al padre nel mio nome ve la dia questo vi comando che vi amiate gli uni gli altri chiuso il cerchio chiusa la riflessione sulla pasqua per quest'anno io vi mando un carissimo abbraccio e vi auguro una pasqua immergendovi in questo messaggio in questo amore per quanto c'è possibile giorno dopo giorno un carissimo abbraccio a tutti e ci vediamo la settimana prossima probabilmente giovedì mattina con una settimana d'ordinaria follia salvo che non riesca a fare una diretta prima ma non lunedì sera che siamo ancora restiamo in questa meditazione in questa riflessione un abbraccio a tutti ciao un abbraccio a tutti